Musica Nelle ultime ore è arrivata la notizia che Industria Italiana Autobus ha vinto la gara dei 140 autobus della regione Campania. Questa buona notizia, affirma il segretario della Fismic, Giuseppe Zaulino, rilancia definitivamente l'avvertenza e produrrà un'accelerazione sui tempi e la ristrutturazione e dei rientri dei circa 300 lavoratori di Valle Ufita. Possiamo affermare, si legge in una nota del sindacato, che le promesse di Matteo Renzi e del governatore Vincenzo De Luca sono state mantenute. Il Made in Italy comincia a far sentire i suoi effetti positivi sulle gare e contribuirà all'ammodernamento del parco autobus nazionale, garantendo l'occupazione dei lavoratori italiani, spendendo bene i soldi dei contribuenti. Altra tappa importante, conclude Zaulino, sarà effettuata domani sera a Roma con Del Rosso e il governo in una ristretta al Mise che potrà chiarire molte cose e rilanciare definitivamente l'avvertenza. Grazie. 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 Grazie.